Noto, una residenza universitaria per gli studenti del CUMO. Dal Ministero dell'Università in arrivo a 960.000 euro per dotare gli studenti del CUMO, il Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale, che comprende i comuni della zona sud, di una residenza universitaria. Attraverso questi fondi si consentirà l'acquisto di un edificio nei pressi della sede di Palazzo Il Giavanti, parte alta di Noto, che potrà poi ospitare 32 posti letto. Sono soddisfatto, dice il parlamentare dei Fratelli d'Italia, Luca Cannate, per essere riusciti a raggiungere un traguardo così importante per i nostri ragazzi. Ho seguito l'iter da parlamentare con il presidente del CDA, Rosario Pignatello, che ha lavorato perfettamente per la partecipazione al bando. Il nostro è stato un lavoro di squadra, anche con il rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, e ciò dimostra che quando si fa squadra si vince. E si riesce a offrire i servizi necessari per i nostri studenti. Una volta acquistato l'immobile, questo dovrà essere adeguato e in grado di ospitare 32 posti letto oltre alle zone in comune. Quindi si procederà all'assegnazione tramite apposito bando. Da anni, conclude l'onevole Cannata, mi batto per offrire ogni possibilità ai giovani che intendono laurearsi nel nostro territorio e che non vogliono o non possono trasferirsi altrove. Così il presente e il futuro dell'insegnamento universitario del CUMO sembra essere indubbiamente più rosico.